E' chiaro che per far questo serve avere prima di tutto una scintilla dentro di sé. Per far questo significa essere passato per diverse tipologie di esperienza nella vita. Molto spesso l'esperienza imprenditoriale è incompatibile, si dice, con l'esperienza politica. In effetti devo testimoniare che il politico che, conoscendo le regole del gioco per ottenere finanziamenti o per poter indirizzare alcuni settori della società, che diventa imprenditore è effettivamente una figura che difficilmente può essere definito creativo e costruttore di valori per la società. Perché in effetti è molto più facile il percorso inverso sostanzialmente. Questa è una verità che bisogna conoscere. Oggi troppa parte dell'imprenditoria è occupata da, non dico da persone, ma da mentalità legate alla regolamentazione, quindi alla logica politica del potere e dell'inquadramento e della regolamentazione dello stesso mercato. Oggi noi siamo testimoni di leggi sull'antitrust che dovrebbero garantire la concorrenza, che possono essere utilizzate in maniera così distorta da invece annichilire la concorrenza, permettendo a degli acquirenti di poter entrare nella gestione di un concorrente che debbono lasciare di lì a sei mesi perché avrebbero avuto una concentrazione di potere troppo rilevante, di poterne gestire i processi produttivi, acquisirne il know-how e poi rimetterlo sul mercato essenzialmente depoperato e quindi come una scatola vuota. È evidente che un certo tipo di applicazione della norma non fa che favorire la costruzione di monopoli. Ma questo a livello macroscopico, macroeconomico, che è grave, gravissimo, ma lo è ancora di più nel momento in cui questi accadimenti invece riguardano i piccoli mercati, quelli che non fanno rumore, quelli che comunque vedono degli interventi. Mi viene ancora in mente, quando io sono giovane, ma mi ricordo delle prime P, dei P dei praticanti che andavano ad essere applicate sulle macchine dei praticanti, appunto di chi comunque stava prendendo la patente in realtà. E mi ricordo che quella P doveva essere prodotta soltanto da un'azienda in Italia in realtà. E questa azienda effettivamente aveva forse qualcosa di speciale. E la cosa interessante è che appunto queste P stampate da questa azienda doveva essere un prezzo decisamente sopra il valore del mercato e che i vigili urbani, la polizia stradale e i carabinieri erano giustamente portati a multare i poveri ragazzi che magari invece di spendere decine di migliaia di euro avevano stampato da sé questa P che poi aveva comunque una riproposizione esattamente della dimensione. Ecco, quello che voglio sottolineare con questa affermazione è che esistono molti mercati regolamentati, a volte diciamo appunto per leggi, per regolamenti, per norme, per prassi, per abitudini, che in effetti vanno a nichilire l'imprenditore che invece vorrebbe inventare e favoriscono invece gli imprenditori, non con la I maiuscola, che invece tendono a sfruttare delle regole molto spesso poste proprio per facilitare alcuni tipi di azioni. È evidente che non è così che si fa scuola di imprenditoria, così si va esclusivamente a favorire l'evoluzione di una specie imprenditoriale che non è sicuramente quella che ci porterà ad essere vincente in campo internazionale. Non credo che i nostri grandi nomi, i nostri grandi marchi abbiano potuto sviluppare la propria attività sfruttando dei regolamenti e non invece la loro geniale creatività.